L'apparente normalità del suo vivere, del suo essere. Intanto come donna, era una donna intelligente, colta, che aveva la capacità di rapportarsi con gli altri. Raccontava prima Gabriella Contini del suo essere diventata presidente del CIF nel 45, nell'agosto del 45, avendo a che fare con un sindaco comunista e con una realtà estremamente complessa, qual era quella del dopoguerra a Carpi, credo che sono cose che ormai storicamente sono accertate, con un contrasto e più che un contrasto nell'immediato dopoguerra tra il partito di sinistra e il partito di democristiano. Lei è riuscita con il suo prestigio personale ad essere apprezzata e stimata dallo stesso sindaco. usava la parola con estrema parsimonia, era una donna molto riservata, benché le piacesse moltissimo fare il suo lavoro. Lei comincia a insegnare a 17 anni, quindi siamo nel 1918, visto che lei è nata nel 1901, e applica quello che sarà poi il metodo di Don Milani, facendo una scuola attiva, andando a insegnare nei paesini di montagna e recuperando quelle che sono le esperienze del vivere della storia familiare di questi ragazzi, accogliendoli in casa per i pranzi, perché la situazione era proprio molto la scuola di Barbiana all'epoca. Quindi con delle intuizioni, con delle sensibilità molto nuove per l'epoca e contemporanee a noi, al nostro modo di essere, ha inoltre questa profondità sua intima di vivere e questa dimensione che non è palesata. Lei per esempio avrà dei contatti molto profondi con i due monasteri femminili che sono presenti in carpi, le clarisse che le cappuccine, e avrà una sua meditazione personale. A me piacerebbe citare di sue parole, da lei scritte, una sua riflessione sulla Madonna, che indica un po' lo spessore del percorso da lei compiuto. Della Madonna lei ha detto ha vissuto per lui, intendendo naturalmente Gesù, e ciò è stato certamente causa di immensa gioia, ma anche di grandissimo dolore, perché l'amore vero su questa terra ha sempre queste due caratteristiche. E questo amore-dolore ha poi raggiunto il culmine quando Gesù l'ha lasciata, lui che era il motivo della sua vita. E' un po' una sintesi della vita di ognuno di noi, nei nostri legami affettivi, della possibilità di prendere tutto quello che noi siamo, con tutto quello che ci costa fatica, con tutto quello che dà il senso della nostra vita, e di vederlo in una luce che possa essere illuminante per noi stessi. E l'altra cosa, brevissima, ma mi pare fondamentale, almeno per quello che per me è stato con lei, è la possibilità per ognuno di noi, qualunque esperienza si viva, davvero di poter immaginare una santità, che non potremmo immaginare, pensata come classica, come riflessione solitaria, come vita di privazioni, così come siamo ne calati nella vita del quotidiano, ma che lei, con la sua misura d'essere, con il suo modo, assolutamente, apparentemente, semplice e normale, ci consente di sperare questo. Ed è quello un po' che ci ricorda Giovanni Paolo II, che i santi camminano anche sulle strade dei nostri giorni, e tutti i santi e i beati che ci ha proposto il Papa, e credo che diventano veramente un incentivo per tutti, per aspirare quotidianamente alla santità. Don Alfredo, vedo che l'orologio sta andando avanti velocemente, e vogliamo parlare un po' dell'ultimo periodo di Albertina, un figlio sacerdote, ma anche medico, che l'ha seguita, come ha vissuto già un po', ci ha detto prima, irradiava, senza tante parole, la sua presenza irradiava. Vogliamo ancora aggiungere qualcosa a questo momento della sua vita. In quei giorni, quando lei era in ospedale a Firenze, venne Chiara Lubic all'Opiano, e voglia andarla a trovare. E naturalmente io ero fuori dalla stanza, ma ricordo quando lei è uscita, Chiara era impressionato, e ha detto, domani fotografatela, fotografate quegli occhi. Cosa era successo? Era successo che nel colloquio privato, lei aveva proposto ad Albertina di fare i voti come le fogolarine. E la mamma aveva detto, ma posso? Perché era sposata. Sì, sì, ne parlo io con un sacerdote, e poi domani. E con questo fatto, quegli occhi, quello sguardo, lei aveva accolto questo. Poi, 15 giorni dopo, la mamma entrò in coma. Meglio, un pre-coma. Però era in sala di rienemazione, Chiara non ha potuto entrare. Ed è stata lì davanti al vetro, Chiara, tre quarti d'ora. E io ho detto alla mamma, perché io sono medico, potevo entrare, ho detto che c'era Chiara. E Chiara, e mamma ha detto, quanti dolori, quanti dolori. Io non capivo cosa fosse, quanti pesi. e poi ho detto, quanti pesi ha Chiara, io voglio aiutarla a portarli. Io ho scritto questo, su un bigliettino di carta, l'ho fatta vedere attraverso il vetro, Chiara è rimasta. E poi mi ha fatto un cenno, che avrebbe telefonato. Infatti, quando è andata via, la mamma è entrata in coma, e Chiara mi ha detto, che aveva un grosso peso, diciamo, come è fatta capirlo lei, che non l'aveva detto a nessuno. E poi tornando a casa, il peso si era risolto. Per cui, anche voi, quando avete dei pesi, che non riuscite a portare, rivolgetevi a lei. E ha dato come parola di vita, quella di San Paolo, portate i pesi gli uni degli altri. Ed è quello proprio che fa, tutto questo movimento di persone, nel mondo, portare i pesi degli altri. Non soltanto chiedere ad Albertina, che tolga i propri pesi, ma ecco. E così si diffonde la carità, si diffonde l'unità, l'amore, così. Grazie Don Alfredo, per quanto ci hai raccontato, anche in questa ultima testimonianza, c'è il Vescovo di Carpi, che possiamo dire, è un appassionato di Albertina, perché ha preso a cuore, la figura di questa donna. Anche lui era presente, all'incontro di presentazione del libro su Albertina, e anche qui abbiamo, possiamo dire, rubato alcuni minuti, delle parole del Vescovo, che fra l'altro, credo valga veramente la pena di seguire, per quanto, per quanto ha avuto modo, di dire in quell'occasione, e che credo possa essere di aiuto, anche per noi questa sera. credo che sia importante, riandare a queste figure, perché il Papa, ce lo chiede, nella sua lettera, a nuovo millennio neunte, che ci ha donato dopo il giubileo, al numero 3031, dice, e in primo luogo, non esito a dire, che è la prospettiva, in cui deve porsi, tutto il cammino pastrale, è quello della santità, mamma maestra Albertina, lo testimonia. E ancora, il Papa insiste, proprio dicendo che, ringrazio il Signore, ringrazio il Signore, che mi ha concesso di beatificare, canonizzare in questi anni, tanti cristiani, tra loro molti laici, che si sono santificati, nelle condizioni più ordinarie della vita. E i nostri Vescovi, i Vescovi della conferenza episcopale regionale, negli orientamenti che hanno emanato, a maggio, appunto, insistono proprio, sulla santità, come una meta fondamentale, nei prossimi dieci anni, sempre, ma praticamente, nei prossimi dieci anni, e, dicono, scrivono, negli ultimi decenni, e anche recentemente, non sono mancate la vita della Chiesa, cristiani, vorremmo dire, profeti. Albertina è stata, ed è una profeta, profetessa, cioè che ha parlato, ha agito, ha vissuto, nel nome del Signore. Ha dato a tutti la coscienza che Dio c'è, che Dio non è campato per aria. Ha realizzato San Paolo che dice, Dio è in tutti, e agisce per mezzo di tutti, ed è presente in tutti. Ed è stata anche, faccio svelto, terzo aspetto, ma è la fonte di tutto, una credente autentica, una credente autentica, non solo una praticante. Ecco, è bello, a pagina 24, ascoltare come era radicata in Gesù e Maria, nell'Eucaristia, e come ancora, costantemente andava la Chiesa del Crucifisso, ad adorare il Santissimo, questo poi me lo lasciate leggere, dice, appunto, a pagina 30, non avendo molto occasione di aprirsi con persone che la comprendessero, Albertina passava spesso dalla Chiesa del Crucifisso, dove l'Eucaristia è continuamente esposta all'adorazione dei fedeli. Diceva, qui mi sento a casa, l'avevo detto una volta, peccato che non mi possa fermare a lungo. Un pomeriggio d'inverno, una signora entrò in quella chiesa, e notò Albertina inginocchiata, immobile davanti allo stensorio. Era così raccolta, che non osò avvicinarsi. Atteso un certo tempo, poi dovette uscire, anche perché faceva molto freddo, e la Chiesa non era riscaldata. Dopo tre ore, entrò di nuovo, e fu sorpresa, di vedere Albertina, ancora immobile, nella stessa posizione di prima. Le assicinò, ma lei non se ne accorse. Aspettò ancora un po', poi si è decisa a toccare una spalla. Signora maestra, ma non ha freddo? Albertina si volse, la guardò stupita, sorrise, poi guardò l'orologio, e disse semplicemente, è ora che torni a casa. Non dimenticò mai con lo sguardo, fu il commento, che la signora fece, raccontando il fatto. Un'anima, abituata, a stare con il Signore, e a fare del Signore, la fonte, la sorgente, l'anima, della sua serenità, della sua pace, che poi diffondeva, a Rosalia, tantissime altre persone. E a pagina 94, si legge da Don Alfredo, che l'ha descritto molto bene, che è morta d'amore. È morta d'amore, è la morta dei santi. È morta d'amore, perché ha saputo trasformare, ogni prova, ogni realtà di amore, di dolore, in realtà, in grande ventata, veramente, di amore. Il Signore ci donna a tutti, di prendere esempio da questo, e ripartendo, di essere capaci anche noi, di imitare Albertina, sapendo che, come lei è stata una pagina del Vangelo vivente, ciascun di noi è chiamato ad essere, oggi, dove viviamo, dove siamo, pagine viventi del Vangelo. Grazie. Ringraziamo il Vescovo, Elio Tinti, Vescovo di Carpi, per queste parole, ma in mano ho anche una preghiera, che ha composto lo stesso Vescovo, e che vorrei fare insieme, leggere insieme con voi, e dove tra l'altro, dove ci sono i puntini, vorremmo mettere quella grazia, in cui abbiamo parlato questa sera, di questo giovane, che sta per essere giustiziato. Padre, che in Albertina ci hai donato, una testimone della tua luce e del tuo amore, e attraverso di lei, hai educato alla vita del Vangelo, generazioni di giovani e di ragazze, per Gesù Salvatore, a gloria tua, e nella grazia dello Spirito Santo, noi ti chiediamo, se è tua volontà, per l'intercessione di Maria Vergine, che le virtù, irradiate dovunque da Albertina, siano riconosciute e portate ad esempio, per la vita dei cristiani, e per il bene dell'umanità, mediante anche la sua beatificazione. Per sua intercessione, concedi a noi la grazia, che imploriamo con fiducia. Amen. Don Carlo, vedo sotto questa preghiera, che c'è anche un'associazione, l'associazione Albertina Violi Zirondoli. Vogliamo dire proprio una battuta, perché siamo in chiusura. Torno al mio sogno giovanile, credo di aver trovato la santità in mezzo alla gente, in mezzo ai cristiani, come Albertina. Questa associazione si propone di far conoscere anche ad altri la santità del popolo, sperando che la Chiesa colga qualche fiore da mettere sull'altare.